Nessun morto da Covid in Abruzzo, vaccini in arrivo a altre 44 mila dosi, parruti dicessi al coprifuoco a mezzanotte, l'infettivologo pescarese, rassicura tutti. Anziani non vaccinati alla RSA di Chieti, denunciate quattro persone, controlli dei NAS nelle residenze di tutta Italia in vista della riapertura alle visite dei parenti. Allarme e bomba al liceo scientifico Einstein, mattinata di paura a Teramo, scuola evacuata, sono intervenuti gli artificieri e le unità cinofile, ma nessuna traccia dell'ordigno. Nasce lo sportello Casa Aism, per chi soffre di sclerosi multipla, il taglio del nastro a Pescara in tutta la regione sono 2.600 i malati. Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro Tg Abruzzo, notiziario a firme e cura della redazione di Vera TV. In primo piano le emergenza Covid tornano a salire, ma in maniera proporzionale al numero dei tamponi i nuovi contagi in Abruzzo. La percentuale di contagiosità resta così stabile, positivi tutti gli altri fattori, come il fatto che non ci siano stati decessi nelle ultime 24 ore. Calo notevole dei ricoveri ospedalieri, sia nelle terapie intensive che in quelle non intensive, alto il numero dei guariti. Alfredo Giovannozzi. Si potrebbe anche parlare di impennata di contagi in Abruzzo, ma sarebbe veramente improprio. I 150 nuovi positivi, tutto sommato, sono nella norma, tanto più perché la percentuale del contagio resta tutto sommato sotto controllo. I 150 sono frutto di 4.067 tamponi molecolari esaminati, che danno così una percentuale pari al 3,7%. Se andiamo a dare un'occhiata a quella comprensiva anche dei test antigenici, si scende al 2,4%. Insomma, tutto nella norma e in linea con il dato di riferimento nazionale. Torna ad essere la provincia di Chieti quella con il maggior numero di nuove positività, con 63 casi, poi l'Aquila con 45, Teramo che ne conta 32, e infine Pescara che ha solo 9 nuovi contagiati, confermandosi sempre di più la provincia più virtuosa sotto questo aspetto. La splendida notizia oggi però arriva sul fronte dei decessi. Non ce ne sono stati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, almeno a causa del Covid-19. Resta così fermo a 2.447 il numero di coloro che hanno perso la vita a causa della pandemia. Le belle notizie non finiscono qui però, perché oggi è una giornata estremamente positiva e allora ecco che i ricoveri ospedalieri in Abruzzo continuano inesorabilmente a scendere. Sono 8 meno di ieri quelli nelle terapie non intensive, che si attestano così a quota 246 pazienti, mentre scende di una unità, senza che si registrino nuovi ricoveri, il dato riferito alle terapie intensive, dove i letti occupati in questo momento sono 24. Insomma, anche gli ospedali e soprattutto le terapie intensive vanno svuotandosi. Scendono addirittura sotto quota 7.000 e sono 6.989 coloro che si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL di competenza e rispetto a ieri sono 403 in meno. Si pensi che solo un paio di mesi fa si era abbondantemente sopra quota 10.000. Così come aumentano oggi in maniera più che soddisfacente il numero dei guariti, che sono ben 562 più di ieri. Questo fa sì che gli attualmente positivi in circolazione siano 412 meno di ieri, per un totale di 7.259 e se dovesse continuare così, presto si scenderà sotto quota 7.000 e anche questo sarebbe un traguardo importante. Un teramano su tre è già stato vaccinato, lo conferma il responsabile regionale per l'Abruzzo dei vaccini, ovvero Maurizio Brucchi, il quale anticipa anche il fatto che sono in arrivo altre 44.000 dosi. Inoltre la Pfizer ha confermato in una nota la possibilità di far arrivare a 42 giorni il richiamo, anche se il consiglio è di rispettare il limite dei 21 giorni. Chiara Bonanti. In Abruzzo nei prossimi giorni arriveranno 44.000 dosi di vaccino tra Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Lo fa sapere il responsabile regionale della campagna vaccinale, il dottor Maurizio Brucchi. Inoltre le somministrazioni proseguono spedite e non ci sono ritardi nella tabella di marcia. A settembre l'Abruzzo si prevede e avvia l'immunità di greggio. Il dottor Brucchi fa sapere anche che Pfizer, dopo le dichiarazioni sul secondo richiamo nei giorni scorsi, con una nota ha specificato che non ci sono controindicazioni per il richiamo a 42 giorni, ma è consigliabile stare sui 21. In settimana avremo queste consegne, a partire con oggi Pfizer, poi ci sarà una consegna straordinaria di AstraZeneca per garantire le seconde dosi alla scuola e alle forze dell'ordine, poi Moderna e qualche centinaio di dosi di Johnson & Johnson, che devo dire arriva veramente col contagocce, però i vaccini stanno arrivando e noi li stiamo utilizzando. Ripeto, oggi vacciniamo a percentuali che arrivano al 90%, quindi diciamo lasciando solo un 10% in gambuse, che è un buon dato. In 146 mila dosi somministrate, 100 mila, 101 mila sono di prima dose e quindi considerando la popolazione target, tolti gli under 16, siamo più o meno intorno al 37%. È un buon dato che rispecchia il buon andamento della campagna vaccinale in Abruzzo, dove siamo due punti sopra la media nazionale, la campagna sta andando bene, adesso stiamo andando bene, siamo due punti sopra la media nazionale e questo è anche il motivo per cui uno studio pubblicato questa mattina ci dà come data di raggiungimento dell'immunità di greggio in 29 di agosto. Stiamo andando bene sia con gli over 60-69 e 70-79 e con gli over 80, abbiamo superato nell'arri Teramo il 90%, siamo al 92%, mancano alcuni allettati e chi diciamo non si è vaccinato ha deciso il ritardo, ma insomma il posto per loro c'è sempre, quindi in qualsiasi momento si possono vaccinare. Inoltre i contagi a Teramo migliorano, nonostante da ieri a Sant'Egidio e la Vibrata sia scattata la zona rossa e si prevede una riorganizzazione dei reparti Covid negli ospedali della provincia. Entro domenica chiudiamo il secondo reparto di Covid a Giulianova e quindi non ci saranno più malati Covid a Giulianova. Teramo, terzo lotto, sarà l'unico ospedale che avrà posti Covid insieme a dati che chiuderà poi anche lì a destrettissimo giro, abbiamo solo tre pazienti a rianimazione, il numero dei contagi è in calo, insomma come diceva il direttore i tanti tamponi che vengono fatti nell'arri Teramo, un po' i vaccini, ripeto un Teramano su tre ha almeno ricevuto una dose, un po' la pandemia che durante l'estate tende a scendere, insomma dobbiamo muoverci a vaccinarci, a vaccinare la popolazione in modo che a settembre se mai si dovesse essere una ripresa, noi avremmo vaccinato con la zona abruzzese, almeno avremmo raggiunto l'immunità di grecia. Situazione sotto controllo al Covid Hospital di Pescara, rassicura il professor Giustino Parruti, primario del reparto di malattie infettive, allungare il coprifuoco alle 24 e al momento possibile, ha aggiunto Parruti, il quale però ritiene che questo coprifuoco non va eliminato del tutto, sala del vecchio. Il basso numero dei contagi in provincia di Pescara rispetto ai dati dei mesi scorsi e la diminuzione dei ricoveri consentono al Covid Hospital di respirare. Allo stesso tempo l'organizzazione dei reparti in piena emergenza permette di affrontare le situazioni più critiche. A spiegarlo è il professor Giustino Parruti, responsabile del reparto malattie infettive della ASL di Pescara. È un momento veramente ottimo e abbiamo potuto concentrare le nostre risorse assistenziali su tre setting che adesso rimarranno con ogni probabilità quelli per tutto il prossimo futuro, fermo restando che ovviamente siamo pronti a rifarci carico di eventuali peggioramenti. Quindi abbiamo una ampia terapia subintensiva che è a fianco alla terapia intensiva Covid, quindi abbiamo la possibilità di ospitare tutti i pazienti con criticità da qui in avanti per tutto il periodo che sarà necessario per la nostra ASL e abbiamo due ali di degenza ordinaria, aggiuntiva, quindi ciascuna per 13 posti. Quindi abbiamo una dotazione di personale grazie a tutti i supporti che abbiamo ricevuto e di spazi, grazie a tutti gli aiuti che abbiamo avuto per rinnovare la nostra struttura che è veramente più che adeguata a vivere serenamente il periodo che abbiamo davanti. E sulla possibilità di prolungare l'orario del coprifuoco fino alle 24, il professor Parruti dice di essere favorevole. Io credo che il contesto attuale consenta, l'ho già detto nei giorni scorsi, ma insomma è una mia personale traslazione della riflessione sui dati che abbiamo potuto fare anche con altri colleghi. Io credo che allungare di un'ora o due il coprifuoco, quindi farlo partire dalla mezzanotte, sia una cosa perfettamente fattibile con i numeri attuali e con il controllo che è necessario perché non ci sia un travalicamento degli spazi di libertà che ci possiamo prendere. È chiaro che nelle ore notturne, quando i controlli sono più difficili, le attività produttive sostanzialmente assenti, non vedo perché si debba togliere il coprifuoco. Potrebbe comportare soltanto dei disordini e delle situazioni di pericolo che per il momento non ci possiamo permettere. Controlli dei NAS nelle RSA di tutta Italia in vista della riapertura alle visite da parte dei parenti. A Chieti sono stati trovati quattro anziani che non erano stati vaccinati, dunque sono stati denunciati tre legali rappresentanti della struttura, oltre ovviamente al direttore sanitario della stessa, Rossella Luciani. Sei strutture ricettive per anziani chiuse, 87 operatori trovati senza vaccinazione Covid. Questo è il bilancio dell'operazione nazionale condotta dai carabinieri dei NAS, anche alla luce della recente ordinanza sulla riapertura alle visite con Green Pass e mascherina FFP2. Proprio in questi primi giorni di maggio è stata realizzata, d'intesa con il Ministero della Salute, la campagna di controlli che ha coinvolto 572 strutture sanitarie e socioassistenziali, constatando irregolarità nel 25% di esse. Sono state 197 le violazioni penali e amministrative contestate per un totale di 43.000 euro, 36 le persone denunciate e altre 136 segnalate alle autorità amministrative. Tra gli episodi più rilevanti in Abruzzo, la mancata somministrazione del vaccino a quattro anziani in una RSA di Monte Teodorisio, in provincia di Chieti, avvenuta solo a seguito dell'intervento dei militari del NAS di Pescara. Al termine di un'ispezione condotta in tre distinte strutture per anziani nelle province di Pescara e L'Aquila, sono state invece denunciate all'autorità giudiziaria e legali il direttore sanitario responsabili del reato di abbandono di persone incapaci ad attendere a loro stessi, non fornendo alle anziani ospiti il setting assistenziale del quale avevano bisogno. Segnalati infine all'autorità sanitaria e amministrativa tre legali responsabili di altrettante strutture per anziani nei comuni di Casalbordino, Monte Teodorisio e Città Sant'Angelo, poiché nelle strutture sanitarie interessate sono state ravvisate carenze igienico-strutturali e organizzative con evidenti infiltrazioni di acqua piovana dal soffitto, distacco dell'intonaco dei servizi igienici e delle camere. Allarme bomba questa mattina al liceo scientifico Einstein di Teramo, arrivata al comando provinciale dei Carabinieri una telefonata che annunciava la presenza di un ordigno nella struttura, sono così arrivate le unità cinofile oltre agli artificieri ma della presunta bomba, nemmeno la traccia, vediamo. Una telefonata a orario di inizio lezioni scolastiche arriva al comando dei Carabinieri di Teramo, una voce che avvisa sulla presenza di un ordigno all'interno del liceo scientifico Einstein senza specificare in quale sede, se in quella di via Sturzo oppure se al comi di via Lebovio. Immediatamente scatta l'allarme, gli edifici vengono fatti evacuare, gli alunni rimandati a casa così come gli insegnanti e sui due luoghi si portano vigili del fuoco, Carabinieri, unità del 118, unità cinofile e artificieri. Le ricerche si fanno serrate perché c'è nell'edificio di via Sturzo una finestra trovata aperta ma doveva essere chiusa, all'interno però fortunatamente nessun ordigno era presente. Penso che questo sia il terzo se non il quarto anno in cui il liceo scientifico vive questa esperienza. Questa mattina ci hanno chiamato i Carabinieri segnalando la presenza di una bomba, siccome non hanno specificato la sede, le forze dell'ordine hanno ritenuto in via prudenziale e giusta l'evacuazione sia della sede di via Sturzo sia della sede del comi. Quindi la telefonata non è arrivata a voi direttamente ma è arrivata tramite i Carabinieri? Sì, sì, sono stata chiamata dai Carabinieri del comando di Teramo. Lezioni sospese ovviamente anche in DAD e solo per oggi però. Allora, noi oggi avevamo in presenza il triennio e il biegno dello sportivo. Quindi tanti alunni? Non tanti, per fortuna qui non tanti. Invece diciamo che la maggior parte delle classi si trovava nel plesso del comi, questo sì. Sono stati avvertiti i genitori chiaramente nei limiti del possibile perché anche la segreteria è stata portata fuori, quindi abbiamo adottato tutta una serie di comunicazioni informali anche attraverso la preziosa collaborazione del rappresentante d'istituto che ha un gruppo di tutti i ragazzi. Siamo a metà maggio, coraggio, manca poco, un mese poi finisce quest'anno scolastico. Sì, sì, ma noi non ci arrendiamo, insomma siamo fiduciosi, però è chiaro che ci dobbiamo preoccupare in primis della salute dei ragazzi e di tutta la comunità scolastica e quindi il protocollo prevede l'evacuazione e noi pazientemente e sommessamente aspettiamo. Furto questa mattina in un cantiere a Cologna Spiagge, ladri travestiti da operai hanno portato via un bobcat del valore di circa 20.000 euro, indagano i carabinieri. Lino nazionale. Hanno agito alle prime luci dell'alba come se fossero dei tranquilli operai intenti ad iniziare la giornata di lavoro nel cantiere, in realtà erano dei ladri con un piano ben preciso, rubare una piccola ruspa ed altri arnesi da lavoro. Il colpo è stato messo a segno tra le 5.30 e le 6 ai danni del cantiere dove l'immobiliare Lucidi sta realizzando dei nuovi appartamenti a Cologna Spiaggia tra via della stazione e lungomare. L'impresa costruttrice che ha subito il furto è la Malvone Costruzione i cui operai intorno alle 7 hanno trovato il cantiere aperto e il bobcat sparito. Un colpo studiato nei particolari perché i ladri, due giovani tra i 30 e i 40 anni un metro e 70 di altezza notati da un residente che si era affacciato alla finestra intorno alle 5.45 ma mai avrebbe pensato che si trattassero dei delinquenti hanno agito in un quarto d'ora appena. Hanno caricato la ruspa su un camion con il quale avevano raggiunto il cantiere utilizzando delle rampe rubate alla ditta di Persio che in questi giorni sta eseguendo i lavori per la regimentazione delle acque proprio in via della stazione. La stessa che due settimane fa aveva subito il furto di alcune attrezzature in via dei campi, sempre a Cologna Spiaggia. Gli autori del colpo avrebbero cercato di rubare anche il camion dell'impresa di Persio ma non ci sono riusciti. Gli operai hanno trovato il blocco elettronico danneggiato perché qualcuno ha cercato di avviare il mezzo senza la chiave. Sull'episodio stanno ora indagando i carabinieri della stazione di Roseto che hanno raccolto la denuncia della ditta Malvone. I militari dovrebbero ora acquisire le immagini della videosorveglianza di alcune strutture ricettive della zona che si affacciano sul lungomare in via Bozzino perché è assai probabile che durante la fuga i ladri siano passati da queste parti. Ha aperto a popoli in provincia di Pescara uno sportello di accoglienza per le persone che soffrono di sclerosi multipla è il frutto di un progetto ideato dalla sezione dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Pescara assieme alla Regione Abruzzo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In Abruzzo sono 2.600 i malati di sclerosi multipla. Sentiamo il servizio. In Abruzzo una persona ogni 504 cittadini è colpita da sclerosi multipla. 2.600 in tutto i malati con 75,9 diagnosi ogni anno. In provincia di Pescara vivono 640 persone con sclerosi multipla. Con l'obiettivo di non lasciare solo nessuno e di offrire un valido supporto anche ai tanti malati che vivono nei territori della cosiddetta montagna pescarese nasce a Popoli Casa Aism, uno sportello operativo e di accoglienza. È il frutto di un progetto ideato dalla sezione dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Pescara insieme con la Regione Abruzzo e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Comune di Popoli. 22.000 i comuni inseriti nell'ambito distrettuale di riferimento ECAD 17. Adesso con il Covid ci siamo resi conto, grazie a una serie di analisi di dati e di richieste delle persone di tutto il territorio della provincia, che ancora di più oggi c'era bisogno della vicinanza di un'associazione, perché i bisogni informativi sono cambiati. La gente con tutte queste informazioni forvianti, contrastanti, non riusciva a trovare una linea. Un esempio è quella del percorso di vaccinazione che ha avuto una procedura molto complessa anche nella sua organizzazione, quindi le persone avevano proprio bisogno di un gancio, di qualcuno che li orientasse. E Casa Aism è volta proprio a raggiungere dei paesi della provincia di Pescara, che fino ad ora appunto non abbiamo raggiunto totalmente. Per quanto riguarda le cure, come siamo messi? Per quanto riguarda le cure, la ricerca ha fatto passi giganteschi. Questo devo dire che anche grazie al nostro supporto, perché noi siamo l'ente, e nel mondo siamo i terzi come capacità di finanziamento di ricerca. Ci stanno davanti soltanto i canadesi, gli americani e gli inglesi, diciamo, ma noi in Europa siamo sicuramente i più avanzati. Finanziamo borse di studio, finanziamo ricercatori, e la nostra peculiarità è di, oltre che promuovere finanziare i progetti, abbiamo anche un comitato scientifico che ogni anno sceglie i progetti da finanziare. Quindi in base ai bisogni e alle ricognizioni che noi siamo in grado di fare attraverso la nostra rete territoriale, siamo presenti in tutti i topologhi di provincia d'Italia, noi riusciamo a capire quali sono i bisogni verso i quali indirizzare la ricerca, quindi raccogliamo i fondi, indirizziamo la ricerca e promuoviamo appunto questa ricerca, che negli ultimi anni ha fatto passi giganteschi, anche se non si è ancora riusciti a trovare, diciamo, la chiave di volta per sconfiggere questa malattia, però c'è da dire che la qualità di vita delle persone con SM è significativamente cambiata in meglio negli ultimi anni, proprio grazie a farmaci nuovi, innovativi, che ogni giorno praticamente escono, vengono provati, testati e poi passano nell'uso comune, e hanno veramente migliorato la qualità di vita delle persone con SM, anche se, ripeto, il traguardo non è vicinissimo, ma noi riteniamo che non sia nemmeno lontano, venerdì da Notaresco partirà la settima tappa del Giro d'Italia e la città si sta, per così dire, preparando al grande evento, si sta rivestendo a festa, il nostro Alfredo Giovannozzi ha sentito il sindaco di Buonaventura. Sindaco, prevedete pioggia per il 14? Ci sta vedendo tutti questi ombrellini, sembra quasi che deve piovere, invece non pioverà, è riparare invece dal tanto sole che venerdì avremo, così faremo un po' di ombre, un po' di ombreggiante per tutelare la salute dei nostri concittadini e tutti quelli che verranno a vedere questo grande evento sportivo. 12 mesi fa abbiamo pensato a questo grande evento, l'abbiamo pensato ancora di più in questa pandemia sanitaria, perché come dico sempre, qualcuno è sordo, la pandemia sanitaria in parallelo ha generato una pandemia economica, ancora più grave una pandemia psicofisica, che tanti nostri concittadini soffrono, ecco, nelle proprie case, ecco, degli effetti di questo coronavirus. Ecco, lo abbiamo voluto perché i grandi eventi generano entusiasmo, l'entusiasmo genera una pilla, io lo dico perché qualcuno quando parlo così si rabbrividisce, ma noi lo vediamo nel nostro taresco che non è venerdì 14, abbiamo fatto anche questi addobbi perché vogliamo che il paese sia accogliente, sia bello da vedere ed è così l'effetto che già sta generando, perché sono già due weekend che tanti ciclisti arrivano in queste piazze, si fermano nei bar, si fermano nei ristoranti, delle nostre botteghe artigianali e questo entusiasmo genera un piccolo pill. Poi lo dico non solo per il nostro comune, perché il grande evento, ecco, genera un pill sull'intera provincia. E quando ci sono poi questi grandi avvenimenti, arriva puntuale anche il Vescovo Leuzzi, che per giovedì sera ha organizzato cosa qui a Notaresco? Bellissimo, ecco, bello. Ecco, quando poi se si lavora sempre per un obiettivo che è la comunità e l'altro, ecco, ci siamo sentiti con le sue eccellenze il Vescovo Leuzzi, perché giovedì 13 maggio cade il quarantesimo dell'attentato di Giovanni Paolo II. E siccome c'è un'associazione in Vaticano che sponsorizza per il sociale il Giro d'Italia, si è pensato di fare una veglia per la pace. Lei però una promessa non l'ha mantenuta, le scarpe rosa non ce le ha. E come mai? Perché le scarpe rosa stiamo cercando, con il mio fratello che mi dà una mano, ecco, venerdì faccio un impegno. Cravatta rosa e scarpe rosa. Si avvicina l'estate mentre Nereto cancella la programmazione degli eventi estivi appunto a causa dell'emergenza a Covid. Al Badriati che invece si prepara alla grande con alcuni concerti che si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi, tra luglio e agosto. Alex De Palo. Nereto getta la spugna e cancella ogni programmazione estiva. L'amministrazione comunale rinuncia al cartellone degli eventi che nel recente passato ha portato in piazza nomi nazionali del cabaret, della cultura, dello spettacolo e della bellezza, riempiendo piazza Cavour di spettatori. Se lo scorso anno il comune sfidò il Covid, decidendo di promuovere il cartellone estivo applicando un protocollo pilota per le manifestazioni di piazza, questa volta ha abbandonato l'impresa. Per il sindaco Daniele Laurenzi, fissare date equivale ad impegnare i soldi che andrebbero spesi, anche laddove l'evento non si dovesse svolgere. Non ci sono insomma le condizioni giuste per sottoscrivere degli impegni economici importanti e l'ente non può rischiare di sperperare denaro pubblico. E allora quella nere tese sarà un'estate a zero eventi, con buona pace di cittadini ed attività commerciali. Il balletto dei DPCM, delle cartine geografiche a colori, del coprifuoco e della facilità con cui si diventa rossi per un pugno di contagi, hanno scoraggiato il primo cittadino. L'anno scorso a maggio non c'erano il coprifuoco e la classificazione in zone colorate. Siamo stati uno dei pochissimi comuni che ha programmato e realizzato il cartellone estivo 2020. Lo abbiamo fatto, ebbene direi, assumendo direttamente la responsabilità connessa all'organizzazione delle misure dei protocolli Covid, prosegue Laurenzi. È stato uno stellicidio di regolamenti, prescrizioni, obblighi, rivieti. Tutto si è dovuto svolgere nei modi e nei tempi più sacrificati. Al contrario di Nereto, Alba Adriatica, una bozza di piano eventi, lo ha stilato, proponendolo alle associazioni del settore turistico. Le manifestazioni saranno fissate a luglio ed agosto, quando verrà nuovamente installata l'arena da 800 posti in Piazza del Popolo. Se per la cultura viene riconfermata la rassegna Reflex, per lo spettacolo torna di certo la rassegna di cabaret. Alba Traz, mentre l'assessorato al turismo, ha proposto a luglio tre giorni dedicati alla famiglia, con spettacoli indirizzati giovanissimi, e tre giorni per la rassegna a pagamento Alba Summer, con cantanti da scegliere, fra Umberto Tozzi, Neck, Francesco Renga e Giussi Ferreri. Una notizia di sport, si sono giocati oggi alcuni recuperi per quanto riguarda il campionato di Serie D. Girone F spicca la vittoria del Notaresco, 2-1 contro il Monte Giorgio. Squadra di Epifani che dunque si avvicina, la capolista Campobasso, ora distante tre punti, ma il Notaresco ha giocato finora una partita in più. Sconfitta interna invece per la Vastese, 2-1 contro il Castelfidardo. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con le trasmissioni di Vera TV. Grazie per averci seguito